Un'altra soluzione temporanea, l'ennesima, per fronteggiare l'emergenza rifiuti nel bacino del sud-est barese dopo la sentenza del TAR della settimana scorsa che ha colto il ricorso del comune di Conversano che chiedeva la chiusura della discarica di contrada Martucci. Il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, ha firmato un'ordinanza con la quale dispone che la spazzatura dei 21 comuni del bacino di Conversano dovrà essere conferita nella discarica di soccorso nei pressi di contrada Martucci. La pronuncia del TAR ha spiazzato i comuni già che la Lombardi Ecologia SRL deputata al conferimento in discarica ha fermato la raccolta creando non pochi disagi per i primi cassonetti stracolmi nei centri urbani. Nel frattempo però la discarica di emergenza dovrà essere liberata dall'acqua piovana e così, visto che la sentenza del TAR non è stata ancora notificata ai sindaci, per altre ore si potrà utilizzare il sito principale di Conversano. Alcuni comuni, come quello di Mola, alla luce delle prime notizie dopo la chiusura della Martucci, avevano già preparato un appello alla popolazione a ridurre la produzione di spazzatura. Appello poi congelato a seguito delle ultime notizie anche se l'emergenza resta. La discarica di emergenza, già il termine dovrebbe bastare a significare che è stata realizzata e quindi dimensionata per raccogliere il minimo del resto del rifiuto.